Ciao ragazzi, eccoci alla seconda puntata in collaborazione con Orange Studios Verona e Play Stop Video. E' uno di quei giorni in cui avete il cosiddetto blocco dello scrittore, la sindrome da fondio bianco. Bene, a me a volte capita davanti al computer che vado nel panico, mancanza di creatività. E quindi cosa faccio? Faccio riferimento a una meditazione yoga molto carina che ha a che fare col secondo chakra. Qui inizio preparandomi la mia tisana rilassante, quella mia preferita, e patto con fare questa meditazione. Dopo questa meditazione vi suggerirei di indossare qualcosa di arancione. Arancione, il colore del secondo chakra. Potete indossare dello smalto, anche arancione, a me non piace particolarmente. Io preferisco più una gonna arancione, un pantalone arancione, oppure una cosa come questo abito. Abito che va benissimo per questa stagione, tipo un po' affiorato, un po' leggero e svolazzante, e vedrete che avrete i vostri effetti. Bene ragazzi, per oggi è tutto, rimanete sintonizzati per la prossima puntata.